Perché la volontà non basta? Cambiare abitudini è possibile? Scopriamolo! Ecco dieci diritte per riuscirci. Nel maggio del 2021 ho pubblicato il mio primo libro sulla creazione del valore. Trovi tutti i riferimenti in descrizione. Parlo del mio protocollo di creazione del valore partendo da noi stessi. Non è teoria ma è concreta esperienza di vita. Ho il piacere di condividerlo con te. La mia vita è cambiata finanziariamente, professionalmente e familiarmente. Ciao, sono Giuseppe Rettini, svolgo la professione di consulente finanziario indipendente, tributarista, formatore e sono CEO dello studio di Rettini. Ti invito ad iscriverti al canale e a mettere un vigoroso like al video. Non bastano forza di volontà e autocontrollo. Devi capire quali sono i tuoi bisogni più profondi. Perché è così difficile cambiare abitudini? Lo sa bene chi lotta con la bilancia, come chi non riesce a smettere di rosicchiarsi le unghia o a controllarsi nelle spese. Non è solo una questione di forza di volontà, determinazione o autocontrollo. Bastasse sapere che il fumo fa male per non comprare più sigarette. Le abitudini consolidate ci danno sicurezza e stabilità. Ci sono utili, ci facilitano la vita, altrimenti non le avremmo prese. Per perderle occorre modificare lo schema mentale che sta dietro quelle abitudini. Cambiare, pensiero, persino le parole. E serve tempo affinché una nuova sana abitudine prenda il posto di quella vecchia, così piacevole ma dannosa. Ecco quindi dieci regole per riuscirci davvero. Primo, per cambiare abitudini scegli un obiettivo concreto. Se vuoi cambiare abitudini che ritieni sbagliate, cerca di darti obiettivi concreti. Non basta dirsi voglio mangiare meno. Sarà più efficace a mettersi nell'ottica di perdere tre chili entro l'estate. Pensare vorrei essere più sereno o quanto vorrei avere più denaro ti espone al rischio di frustrazione perché queste generiche aspirazioni sono velleitarie e non contengono un progetto o una strategia specifica. Due, indaga a fondo sul perché lo stai facendo. Questo è un passaggio cruciale. Per cambiare abitudini serve un'attenta riflessione per capire quali sono le motivazioni personali che ti spingono in quella direzione. Le possibilità di successo sono in genere direttamente proporzionali alla soddisfazione dei tuoi bisogni. Se non riesci a perdere peso, probabilmente non è quello di cui hai davvero bisogno. Solo tu sai di che cosa ti manca. Tre, immagina il risultato. Libera la tua fantasia e cerca di immaginare quale sarà il risultato dei sacrifici che stai per affrontare. Pensa a quali sfizi ti potrai togliere se riuscirai davvero a risparmiare del denaro in vista del viaggio che hai in programma. Pensa a quanto sarà piacevole partire e a quanto sono tutto sommato banali e scontate le cosucce che ti compri ogni giorno. Quattro, fissa una scadenza. È importante fissare un limite temporale entro il quale finalizzare l'impresa. È vero che serve del tempo, non puoi pretendere di rinunciare da un giorno all'altro ad abitudini consolidate, ma ti serve un traguardo da raggiungere. E se qualche volta la tentazione sarà più forte, una defiance te la puoi perdonare. Non è un buon motivo per rinunciare. Il traguardo è lì a portata di mano. Cinque, procedi per gradi. Ora che hai fissato il traguardo, concentrati sulle tappe intermedie procedendo per gradi, così da suddifidere lo sforzo lungo il percorso. Smetti di mangiare dolci, è un'impresa titanica. Ridurli progressivamente è umano. Ottenere piccoli risultati ti aiuta ad acquisire fiducia nella tua capacità di autocontrollo e di riuscita. Ora sai che ce la puoi fare e non nemmeno è così difficile. Sei, trova un'abitudine altrettanto gratificante. Quell'abitudine che vuoi modificare va sostituita con un altro altrettanto gratificante, sempre che non rientri nelle cattive abitudini. Sostituire la sigaretta con abbuffati di cibo, oppure il cibo con la sigaretza, non è un'opzione. Con un po' di fantasia puoi trovare un rito che sostituisca quello automatico della sigaretta dopo il pasto. Una passeggiata, una tisana, un video divertente su YouTube. Sette, cambia il linguaggio. Siccome il linguaggio plasma i pensieri, per cambiare i pensieri che guidano il tuo agire, devi modificare le tue parole. Usare i diminuitivi per nominare le cose che mangi, un biscottino, una briochina, una tortina, non ti fa ingrassare di meno e non rende il peccato di gola più veniale. Sarà meglio cominciare a dire basta con questi biscotti, così dolci e ricchi di grassi. 8. Modifica il tuo ambiente. Le tue abitudini sono legate all'ambiente in cui vivi. Se vuoi mangiare meno dolci, evita di passare davanti a quella pasticceria così invitante, non attraversare la corsia dei dolciumi al supermercato. Cambia la disposizione dei cibi in dispensa. Devi spezzare gli automatismi, violare i riti. Il momento ideale per farlo è la vacanza, quando cambiamo le abitudini e l'ambiente attorno a te. 9. Cerca alleati. Confida i tuoi buoni propositi alle persone che possono aiutarti a vigilare sui tuoi comportamenti. Se non sopporti le osservazioni di mamma o i rimproveri del partner, evita di farlo con loro. Sarà più facile accettare il benevolo richiamo all'ordine di amici o colleghi. 10. Premia i tuoi successi. Quando la tua nuova più sana abitudine ha preso il posto di un vecchio vizio, è il momento di premiarte. All'intima soddisfazione di avercela fatta va aggiunto una ricompensa tangibile, un trofeo che valga come monito a non ritornare sulla cattiva strada. Bene, ti ringrazio di avermi ascoltato alla fine alla fine. Ancora una volta ti chiedo veramente di iscriversi al canale, di seguirmi sui social, sul sito e soprattutto se vuoi essere seguito da me per la gestione del tempo e del denaro. Da un punto di vista finanziario, io in qualità di consulente finanziario indipendente non devi fare altro che fissare una call, chiamare al numero verde, trovi tutto in descrizione. Quindi ti auguro veramente di diventare sempre più un investitore consapevole, partendo però da te stesso. Perché come sempre dico, non puoi pensare di fare gli investimenti se non sai gestire il denaro e non puoi gestire il denaro se non sai gestire il tuo tempo. Tutte queste attività non le puoi fare se non ti assumi la responsabilità della tua vita. Quindi alla prossima e al tuo successo. Ciao!